Il vero problema di questo paese, e faccio riferimento alla signora Castaldini, il cui ministro, il ex ministro Alfano, ha investito in tutti questi anni in insicurezza invece che in sicurezza. In insicurezza perché fino all'anno scorso spendevamo 4 miliardi per mantenere il proghi a 35 euro al giorno. E non investivamo in sicurezza perché per esempio dalla piazza di Tirrenia, da cui hanno parlato prima, hanno scampato per un pelo la chiusura della caserma dei Carabinieri. E sapete l'anno scorso quante ne hanno chiuse di caserme dei Carabinieri? Anche la nostra, una frazione di Cascina, ha rischiato di chiudere. Io mi sono battuta fino all'ultimo perché non chiudesse. Hanno chiuso un sacco di piccole caserme accorpandole. Quindi finora il suo ministro, cara Castaldini, ha investito in insicurezza e non ha investito invece in sicurezza. Siamo all'assurdo in questo paese.